che parte? devi andare sul solo verde esatto si ma mettiamoli in un posto allora adesso la questione è dobbiamo fare una strategia ovvero ci dobbiamo trovare tutti in un posto potenzialmente esatto e poi andare in giro assieme le cose da fare principalmente sono andare in una città e cercare una sega o una motosega meglio ancora le motosega sono bellissime in modo che possiamo tagliare gli alberi e tagliando gli alberi possiamo costruire la nostra base la base è da costruire lontano da una città perché nelle città spawnano gli zombie quindi noi dobbiamo fare la base lontano quando abbiamo fatto la base possiamo andare in giro nelle città prendere gli oggetti e riportarli tutti alla base così ce li teniamo lì e cominciamo a costruire roba io non vi vedo ho una macchina anche io qua però ha poca benzina e non so dove siete non vi vedo mai tra l'altro c'è in giro ma c'è un modo per vedere gli altri solo se stai vicino cazzo c'è il utilizzato zombie ma io sono nel porto adesso dove ero l'altra volta che lì era pieno di roba figa eh si ma era anche pieno di zombie stronzi ah ah altro del loot figo io so la spiaggia la cosa più figa sarebbe riuscire a trovare il la base degli americani da qualche parte c'è tipo la base militare che è piena di loot oh puttana la gioca è pagato ma io posso bere l'acqua di mare cioè si è un lago non è un mare è un lago allora e allora adesso mi riempio a borraccio non mi apre più i non senza sta cosa prima aprivo il menu con esc ora invece mi non si ferma più ma scusa cioè è cambiata la funzione della pausa perché? perché hai windows 10 ma non è questo in windows 10 la pausa non è più pausa ma è diventato select ma quello è non ha senso sta cosa non c'è più non posso neanche uscire voi che sapete tutto adesso io a mano a mano vi troverò delle cose e ve le chiederò tipo che cos'è questo? che cos'è questo? e voi mi risponderà come il gioco di merda usa il 40% della cpu? fermate iota l'ho fatto dal ragazzino da 14 anni che non sa cos'è una cpu e quindi che ha una cpu troppo potente e non ha pensato esatto allora io inizio a spostarmi con la macchina visto che non vedo nessuno ah cazzo è meglio che inizi anche a usare i miei punti di esperienza ah ecco perchè ho messo l'inventario su end che tende crea delle cose strane ma adesso è notte un paio zombie a manetta? non so se ne appagliano di più potrebbe essere ah cazzo anch'io c'è un sacco di punti esperienza io no io no ok io inizierei a guidare a buffo io con la macchina cosa dicevo venite a prendere date a prendere iota tirate sotto iota che lo vedete lo vedete grazie a tutti